Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Arezzo è accaduto alle porte della città in via Piedallandi una traversa di via romana. Un operaio di 42 anni che stava lavorando su un tetto improvvisamente è caduto a terra facendo un volo di circa 6 metri. L'impatto violento con il terreno gli ha causato ferite importanti. L'uomo ha riportato numerosi traumi ed è infatti in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'auto medica infermierizzata e un'ambulanza. L'operaio è stato infatti trasportato con l'ambulanza e il medico a bordo all'ospedale delle scotte di Siena in codice rosso. Su quanto accaduto indagano la polizia di stato giunta sul posto con una pattuglia e il PILS, medicina del lavoro della ASL Toscana Sud-Est. Questo dall'inizio dell'anno è il 14esimo caso di incidente sul lavoro in provincia di Arezzo in tre episodi. La dinamica è stata la stessa che ha visto coinvolto il 42enne.